Ciao, lui è Alberto, produttore di vino e pittore, e vi parlerà di arte e di vino. Ciao e bentornati sul canale di Alberto. Sesto quadro della follia, molto simile al precedente. Le uniche differenze che noterei è la posizione del bambino, che rispetto a prima sembra più vivo, infatti si vede dalla posizione del corpo, e i colori decisamente più vivi rispetto al quadro precedente. Anche in questo caso sottolineare più la cattivere, la crudeltà di questo militare, e quindi un'estremizzazione di quella che può essere la follia.